salve a tutti ragazzi e bentornati nella serie di sopravvivenza e benvenuti in quello che è un video speciale in quello che è un video davvero davvero speciale ragazzi perché oggi 7 aprile 2022 il canale compie 7 anni ragazzi e così anche questa serie che compie 7 anni e sono un bel po 7 anni ragazzi sono davvero un bel po cioè mi è capitato di cioè io ho parenti cuginetti piccoli no che hanno 7 anni o addirittura meno e pensare questa cosa è cioè che questa serie è più vecchia addirittura questo mondo è più vecchio addirittura di certi magari anche certi miei iscritti è una cosa abbastanza strana però insomma è veramente fichissimo e non vedo l'ora di festeggiare con voi questa cosa all'interno della serie ovviamente non è che possiamo fare chissà cosa la mia idea sarebbe quella di insomma creare una torta chiacchierare un pochino nel mentre comunque continuiamo a fare le cose che dobbiamo portare avanti appunto all'interno della serie e 7 anni di canale ragazzi allora la mia idea all'inizio era quella di fare uno speciale era quella di mettermi lì registrare qualcosa di veramente unico magari non so tipo un montaggio con qualcosa di epico o qualcosa del genere però alla fine purtroppo non ho il tempo di farlo non ho proprio il tempo materiale in quanto sono impegnato con l'università dovete sapere che in questo momento gli devo consegnare tre coursework quindi tipo tre temi potremmo dire che sono tipo delle mega ricerche e poi devo dare tre esami a maggio quindi sono veramente tiratissimo e non sono riuscito a mettermi lì a fare anche quello tra l'altro oggi uscirà uscirà la serie di sopravvivenza ma uscirà poi anche durante la sera cioè in serata adesso non so esattamente a che ora uscirà un altro video quindi super speciale oggi posso prendere un'altra mucca grazie un'altra vacca allora ok e niente quindi appunto usciranno due video oggi lo so che probabilmente è una cosa un po' controproducente per il mio canale però non mi interessa era una cosa per me molto importante festeggiare sia a livello cioè sia con una cosa vecchia che è la survival che è una cosa che ormai portiamo avanti appunto dall'inizio del canale da sette anni ma anche festeggiare con qualcosa di nuovo infatti questa sera uscirà un secondo video che sarà sostanzialmente un monthly vlog ma sarà un monthly vlog un po' particolare e poi comunque vi spiegherò tutto quanto per bene la torta si fa con un uovo lo zucchero e il grano quindi mi serve ancora lo zucchero eccolo qui e mi serve anche il grano e ne ho giusto tre perfetto pensavo servissero comunque più uova dunque si dovrebbe fare così poi mettiamo il latte sopra l'uovo al centro e lo zucchero ai lati e abbiamo la torta ok perfetto molto bene guardate che che effetto di luce fighissimo attraverso la foglia questo effetto qua che tipo provoca i bordini della foglia di essere un attimino più luminosi e il centro più scuro si chiama subsurface scattering adesso non vorrei dire una cazzata ma dovrebbe chiamarsi così e sostanzialmente è questo effetto particolare che c'è anche nella vita reale fateci caso provate a mettere tipo la vostra mano contro un raggio di luce molto forte vedrete lo stesso effetto tipo contro il sole per intenderci ok andiamo a mettere qui la torta qui c'è anche un boccale di birra è tipo una sorta di pasticcino di natale che è ancora qui e ok adesso la torta non posso ancora mangiarla perché ho tutta quanta la saturazione piena però insomma pian pianino adesso man mano che si scaricherà magari andremo a mangiare una fettina di torta c'è un gatto e vabbè noi intanto andiamo a dormire perfetto e così intanto passiamo la notte e riprendiamo il discorso e perdo sempre il filo del discorso sette anni di canale la prima parte della della festa diciamo in un certo senso di questo giorno speciale appunto lo festeggerò nella survival ci mangeremo la torta e poi in realtà faremo tutte quante le altre cose perché ragazzi se ben vi ricordate nella scorsa puntata abbiamo completato un altro advancement o meglio abbiamo creato una cosa che ci permetterà di fare un altro advancement infatti vedete qui completare gli advancement questo è tipo uno degli obiettivi che appunto dovrò portare avanti perché se ben vi ricordate nella scorsa puntata vi avevo mostrato che sostanzialmente in live avevamo costruito questa questa sorta di faccina di villager un po' strana un po' tipo sembra una sorta di mascherone che sostanzialmente mi sputa fuori delle idee da fare e la prima idea che era venuta fuori era per l'appunto completare gli advancement ora non ne mancano tantissimi in realtà quindi dovrebbe essere una cosa abbastanza fattibile però oggi vorrei farne due e il primo è questo follow an eye of ender quindi seguire l'occhio del land ora in realtà io questa cosa l'avevo già fatta perché ero già entrato nel portale del land e per farlo devi utilizzare l'occhio del land però col cambio di versione si è sminchiato tutto quanto quindi facciamo rapidamente questa cosa e poi zombie doctor quindi praticamente devo andare a curare uno zombie villager e per questo mi servirà esplorare e trovare uno zombie villager quindi allora la prima cosa da andare a fare è assolutamente l'occhio del lander che potrei non avere ragazzi potrei seriamente non avere un occhio del land perché ho questo e forse si fa con la magma cream o forse con la verga di blazer se non mi ricordo no ok si fa con la verga di blaze si fa con la verga di blaze ok quindi niente non posso farlo non posso farlo almeno che io non vada nel nether ok dai andiamo nel nether su dai facciamo questa cosa allora mi porto tipo il mio elmetto in realtà questo ha fire protection quindi è un po' tipo tipo così a favore fire protection ok mettiamoci questo perché ovviamente nel nel nether deve indossare qualcosa che contenga l'oro perché sennò i piglin si incazzano perfetto festeggeremo poi al ritorno praticamente sarà un compleanno del canale un po' infernale un po' in versione inferno dantesco partita pure una musichetta ok andiamo nel nether e troviamo una blaze mi serve giusto la sua verga che detto così suona un pochino male però non importa allora f3 f2 tanto nel senso dovrei essere in grado di riconoscere dove sono ma sbaglio o è cambiata la zona non ero qui prima cioè si è resettato sì mi sa che si è proprio resettato il nether ragazzi ok ragazzi ho trovato questa zona con la fortezza del nether che per fortuna ok che per fortuna non era neanche troppo distante dalla base che è perfetto cioè dalla base dal portale poi qui c'è un magma cream gigante sì vediamo se riusciamo a trovare rapidamente una blaze così la facciamo fuori ci sono pure dei wither skeleton per il momento non mi servono i wither skeleton quindi posso anche farne a meno allora entriamo rapidamente qui non c'è nulla certo che potrei probabilmente tornare a oddio questa cosa qui è un attimino sminchiata quella texture potrei probabilmente tornare alla vecchia fortezza del nether a livello di texture cioè quella tipo rossiccia strana ecco qua ci sono le blaze che vedete che hanno pure una texture custom anche se non mi convince completamente probabilmente poi andrò a rimettere quelle normali potremmo dire mangiamo così ricopriamo un attimino la saturazione e andiamo andiamo facciamole fuori rapidamente cioè vedete che alcune hanno delle texture davvero fighe tipo queste qua chiare potremmo dire gialline però le altre non mi convincono affatto perché sostanzialmente io quando vado a creare le texture vado a prendere magari texture fatte da altri youtuber o comunque altri creator e cerco di integrarle oddio perché sono finito qui nella gold farm no ragazzi perché sono nella gold farm che succede non dovrebbe succedere questa cosa è un problema a parte che da qui la base è bellissima a parte questo sono finito nella gold farm va bene ok probabilmente questa qua un giorno verrà anche disattivata perché è veramente gigantesca fa un rumore alluscinante e crea un lag abbastanza importante insomma comunque dicevo col fatto che vado ogni volta importare varie texture le mix insieme le edito un pochino ci sta che a volte compaia qualcosa che non sia propriamente fantastico tipo si glicciano tutte quante delle cose non funziona ah no forse andava con la blaze powder vediamo ok eye of ender vediamo tra l'altro dov'è il portale del nether cioè del land non del nether in questo mondo ovviamente tutto quanto resettato in 118 quindi tecnicamente dovremmo vedere dove è andato di là ok vai me l'ha pure droppato che culo però non ho fatto l'advancement vabbè ragazzi allora adesso onestamente non mi voglio mettere qui a seguire l'occhio del lander che per qualche motivo cioè nel senso l'ho lanciato l'ho seguito ma non ha funzionato a meno che gli non debba proprio scoprire la fortezza ma nel frattempo c'è pure un enderman parlando di end nel frattempo noi dobbiamo fare un'altra cosa vale a dire trovare uno zombie villager trovare uno zombie villager e lanciargli una pozione di rigenerazione e dargli una mela dorata tac tac e ci siamo mela dorata tre pozioni di rigenerazioni fatte proprio al momento e andiamo benissimo a questo punto andiamo all'esplorazione dobbiamo riuscire a trovare uno zombie villager non sarà per niente semplice ragazzi sono piuttosto rari gli zombie villager così mentre giro ne approfitto un attimino per chiacchierare insieme a voi là c'è uno zombie però è normale dicevo ne approfitto un pochino per chiacchierare insieme a voi per quanto riguarda la questione dei sette anni del canale e dunque il primo tema che vorrei affrontare riguarda prettamente il canale il fatto è che ultimamente l'avrete notato non sto caricando molto non sono molto presente neanche sul canale di telegram e non sono presenti neanche tanto gli altri ragazzi della community della biosphere ora non è perché non siamo tipo più amici o tipo perché abbiamo litigato altre stronzate no ragazzi assolutamente è perché siamo tutti quanti impegnati con lo studio quindi l'università oppure con il lavoro ed è normale che dopo tanti anni comunque si perda un pochino l'interesse chi più chi meno io onestamente per esempio gran parte dell'interesse l'ho mantenuto ma è mutato in un certo senso non sono più tipo motivato costantemente a pubblicare video che poi era una motivazione un pochino malsana onestamente se devo pensarci perché mi ricordo tipo anche banalmente fino a due anni fa se io non caricavo il video tipo tre video a settimana mi sentivo un sacco in colpa e nel senso è giusto da un certo punto di vista ma è sbagliato da un altro perché nel senso se non ci guadagno nulla da youtube se non riesco a ricavarne assolutamente nulla e questa cosa poi mi sottrae tempo magari allo studio al lavoro eccetera eccetera allora non è una cosa positiva youtube deve essere mantenuto una passione una cosa che faccio quando ne ho voglia senza stare a sclerare sostanzialmente senza sottrarre il tempo alle cose che invece sono seriamente importanti e dato che siamo tutti quanti cresciuti sia io che matt flame bianca tutti quanti abbiamo tutti quanti degli impegni più prioritari ora come ora questo non significa che non facciamo video infatti almeno come potete vedere io il video li sto facendo poco però li faccio e ci tengo a continuare a farli perché comunque per me il canale è un progetto molto importante avrete sicuramente notato che porto meno serie e questo proprio non su questo non ci piove mi dispiace un sacco perché dovete sapere che in questi mesi io ho provato a registrare delle serie nuove ho provato per esempio a riportare le serie moddate qui c'è un altro zombie ma è normale ho provato a registrare una serie moddata ma non mi piacevano gli episodi cioè proprio mi sapeva di vecchio e avevo paura che una volta pubblicato proprio il video la gente non se lo sarebbe guardato e quindi magari mi sono messo lì ho speso tempo per creare il modpack e fare tutte quante le cose settare tutto quanto e poi magari il video non viene visto da nessuno e questa cosa insomma mi avrebbe lasciato l'amore in bocca e ne sono assolutamente certo perché mi è già successo in passato e mi conosco ho provato anche tipo a riregistrare potter world però ragazzi onestamente su quel server le cose sono pseudo finite nel senso ok continuano ad aggiornarlo fanno sempre delle piccole cosine nuove però alla fine gira che ti rigira le cose da fare sono più o meno quelle a meno che io non mi metta a fare letteralmente tutte le quest poi quale altre serie mancano manca blender di cui però ho appena finito cioè nel senso neanche sei mesi fa ho finito la serie con i tutorial quindi sta ancora andando è ancora attuale magari potrei farci qualche video spin off qualcosa del genere però insomma potenzialmente quella serie è chiusa per ora ma penso anche che sia una cosa normale ragazzi siamo cresciuti tutti quanti e quindi è anche più difficile avere del tempo libero da dedicare al gioco a passare puramente a giocare e magari se abbiamo voglia di giocare per quella mezz'oretta così perché magari siamo tornati dal lavoro dall'università non a tutti va di mettersi anche a registrare perché è ovvio che sia una cosa impegnativa che richiede il fatto di mettersi lì pensare alla puntata pensare a cosa fare e niente alla fine parlando non sono neanche riuscito a trovare uno zombie villager peccato peccato dai stanchiamoci allora un attimino adesso a livello di saturazione che così vado a mangiare la torta che ho fatto inizio episodio che è ancora lì io sono molto contento ragazzi di come sta andando il canale a livello di persone che lo seguono nel senso che mi capita di ricevere commenti gente che mi scrive in privato entusiasta magari dei video delle serie mi commenta magari i tutorial di blender la serie di sopravvivenza queste cose quindi sono molto contento anche quando facciamo le live di vedere la vostra interazione con il canale non sono contento dell'andamento generale nel senso che ovviamente ma questa cosa è normale non caricando si fanno anche poche visualizzazioni si fanno pochi scritti si fa un'interazione bassa in generale io per esempio gioco molto di meno passo magari molto più tempo a cercare di capire come funzionano dei software a testarli a magari leggere notizie di cose interessanti che magari riguardano sì il mondo della tecnologia il mondo videoludico ma non prettamente a giocare per quanto la serie di sopravvivenza per qualche motivo resta sempre un must ho sempre questo pallino fisso nella mente e quindi quella resterà per sempre probabilmente onestamente ragazzi sto aspettando ancora dopo sette anni quel qualcosa quella sorta di scintilla che ogni tanto scatta in alcuni canali gli fa fare un sacco di visualizzazioni un sacco di scritti un sacco di cose e ogni tanto spero questo spero che anche il mio canale riesca a ricevere questo boost pazzesco e che quindi a un certo punto cominci a crescere tantissimo non è mai successo in sette anni quindi non penso che succeda adesso e poi altre volte penso ok anche se ho un canale da 6.400 iscritti diciamo tra 6.000 e 7.000 iscritti che comunque non sono pochi è figo il fatto che le persone che mi iscrivono essendo poche è come avere un canale piccolino quindi una community piccolina molto intima in cui tutti quanti più o meno si conoscono delle serie attacco una live ci mettiamo a costruire qualcosa chiacchierare e ci siete tutti quanti voi che interagite nella chat oppure tipo non lo so interagite nei commenti dei video e questa cosa è davvero bellissima sono un sacco contento e devo ringraziare tutti quanti voi ragazzi assolutamente perché siete voi che state mandando avanti il canale più che più che io diciamo quello che stia facendo io perché come detto di video non ne sto caricando più di tante ma detto ciò raga momento serio finito mangiamoci la torta ok uno spicchiettino di torta questa resterà qui probabilmente per i prossimi sette anni mi rendo conto che questo probabilmente non è stato il grande speciale che vi aspettavate all'interno della serie di sopravvivenza però io ci tendeva a fare un episodio semplice semplice come quelli che facevo tanti anni fa che sono quelli che mi piace di più anche rivedere sia i miei ogni anno mi riguardo i miei video anche se è una cosa un po strana ma anche quelli di altri youtuber che seguivo anni fa in passato preferisco guardare quei vecchi video in cui lo youtuber parla magari fa un discorso che non porta da nessuna parte però è bello da tenere in sottofondo e tiene tanta compagnia detto ciò ragazzi io direi che per il momento è tutto no non è tutto per niente ragazzi lo zombie villager c'è il fortuto zombie villager dai così proprio a fine episodio ma è bellissimo vai prenditi la mela prenditi prenditi la mela mangia la mela mangia la mela no ragazzi no ragazzi aspettate un attimo perché non sta mangiando la fortuta mela ok ragazzi probabilmente è la pozione sbagliata ho letto sulla wiki e dice che deve essere la pozione di weakness ma non era mica la pozione di instant health per fortuna una weakness ce l'ho qui però mi ricordavo che era la instant health cioè nel senso tecnicamente essendo comunque rigenerazione non instant health scusate essendo rigenerazione tecnicamente lo zombie dovrebbe prendere danno perché lui è non morto quindi weakness dovrebbe dargli forza invece o sbaglio però in tutto ciò lo zombie è sparito oddio eccolo 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 allora aspetta vieni con me seguimi ok vieni qui prenditi questa e poi prenditi la mela dorata ok ha funzionato ragazzi ha funzionato tecnicamente lui adesso si trasformerà in un villager sì ok 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 vorrei reccare il momento in cui si trasforma quindi magari aspetto un attimino qui e vediamo se si trasforma mentre sto registrando ok ragazzi si è trasformato ed è diventato un tizio o una tizia ginger ok figata perfetto tra l'altro ho dovuto mettergli questo tettuccio qua sopra perché sennò tipo col sole ovviamente moriva quando era ancora zombie noi ovviamente comunque ci vediamo nei prossimi giorni con altri video sul canale ma soprattutto ci vediamo questa sera ore 18 sempre qui sul canale con il monthly vlog speciale di marzo in realtà cioè vi racconto quello che è successo a marzo ma ci saranno anche cose speciali per l'appunto che riguardano i sette anni sul canale quindi sì per il momento è tutto i'll see you next time ciao ciao ciao